me la spaventi me la spaventi come faccio? muovi non è successo nulla? muovi di più aspetta non spaventarla non spaventi non spaventi non spaventi faccio poverà Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa è gnocca. Marti, guarda che figa. Sto aspettando che voli via e che voli da quella parte. Guarda qui la farfallina. Dai che sono già due giga qua praticamente. E vai. Presa, ti amo.